non riusciamo a darci altre spiegazioni rispetto ad una vicenda che sta assumendo toni grotteschi l'accanimento contro una città contro una società sportiva diventata modello per tutta italia tranne che per alcuni burocrati che pensano di ammazzare l'emozione e i sentimenti di un popolo inizia così la lettera di gianni verenna ieri venerdì 9 agosto a soli due giorni dalla prima partita ufficiale della stagione abbiamo ricevuto l'ennesima diffida firma del soprintendente per la Calabria Mario Pagano a smontare ad ora le strutture dello stadio Ezio Scida una diffida che non solo suona come una minaccia ma che si fa beffa della sentenza del Tar Calabria giunta nei primi giorni di giugno e che ha rispedito al mittente le precedenti osservazioni dei signori della soprintendenza e soprattutto che viene stranamente notificata a sole 48 ore dall'esordio stagionale e in un periodo fitto di impegni calcistici quasi a voler creare più disagi possibili nell'ardir urgenza le vie legali per ottenere la sospensiva di una misura che ci appare davvero sproporzionata ed evidentemente studiata a tavolino per nuocere ad un'intera comunità o forse dobbiamo supporre che l'obiettivo dell'accanimento sia ben più circoscritto da tempo purtroppo si percepisce la strana sensazione ci possa essere un vero e proprio attacco personale su più fronti vogliono uccidere il football club crotone vogliono toglierci l'ossigeno ed impedire ad un intero territorio di poter godere di uno dei pochi momenti di svago ma che non è solo tale il calcio a crotone è diventato negli anni motivo di grande orgoglio per un intero popolo che seguendo le vicende di una squadra di calcio rispettata in tutta Europa ingrossa il petto e mostra la sua appartenenza storica e culturale vogliono impedirci tutto questo e lo fanno con scientificità chirurgica siamo davvero stanchi di lottare contro tutto e tutti e se la soprintendenza insisterà su questa strada saremo costretti a prendere decisioni drastiche pretendendo che siano ben attribuite le responsabilità e gli eventuali danni che tali gesti causano o in ultima analisi ritirando la squadra da tutte le competizioni perché è evidente che questa è la volontà di chi continua a produrre carte per far male al popolo crotonesi a partire da quei politici che dovrebbero difendere e tutelare questo territorio grazie